E adesso parte la centrifuga Chi se ne ricorda la password? Conte brutto sto cosa E' un bobby Io volevo farlo il video però è partita la centrifuga Vabbè, aspettiamo Oh, non la so la password Non posso aggiungere il contatto Qualche password? Ciao mamma, serena Ciao, ciao papà Ciao Innanzitutto mi scuso per la mia assenza Non è voluta assolutamente Ma in questo periodo sto facendo 800.000 cose tutte insieme Secondo Ciao Questo video devo farlo qualche giorno fa Ma non ho avuto proprio tempo Quindi lo faccio con diversi giorni di ritardo Anche perché stasera Mentre voi state guardando questo video E' il secondo giorno di riprese di What a Secret La webserie di cui vi ho ormai parlato Più che a sufficienza Se non sapete di cosa sto parlando Siete delle brutte persone Quindi andatevi a informare Vi lascio in descrizione il link In cui vi parlo precisamente di questa webserie Questo video invece lo faccio per aggiornarvi Su un paio di novità Molto molto importanti Sto organizzando una specie di evento a distanza A cui si può partecipare in qualsiasi posto d'Italia Cioè dovunque voi siate Anche nel paesino più lontano del mondo Potete partecipare a questo evento Come avete detto dal titolo Si chiama What a Secret Day E' il giorno in cui celebriamo Praticamente l'uscita di What a Secret E sarà esattamente il giorno prima Dell'uscita del primo episodio Ovvero l'11 dicembre 2018 Il primo episodio quindi uscirà il 12 dicembre 2018 Come fare per partecipare a questo evento? Molto semplice In descrizione vi lascio il link Delle campagne Delle magliette ufficiali della serie Che dureranno per altri 3 o 4 giorni Quindi avete solo 3 o 4 giorni per acquistare le maglie E partecipare al What a Secret Day Perché una volta che vi saranno arrivate L'11 dicembre 2018 Tutti quanti, tutti noi, anche io l'ho acquistata Indosseremo le magliette che ci sono arrivate Del nostro personaggio preferito Ci sono quelle di Danny, di Greta e di François Sono tutte e tre bellissime Fatte da un grafico bravissimo Grazie Fabio che ha fatto queste maglie strafighe E tutti quanti il giorno 11 dicembre 2018 Indosseremo le magliette Pubblicheremo una foto su Instagram E io ricondividerò tutte le storie Tutti i post in cui mi taggerete E taggerete la serie Ciao ma Quindi in poche parole Per partecipare dovete semplicemente Cosa vuoi fare? Non ti si vede? Così non ti si vede, vai Fatto? Sì Devi fare pipì? No Ok No, si è scaricato Quindi in poche parole Per... Ti copro? Ok Quindi in poche parole Per partecipare dovete Acquistare la maglietta Come ho fatto io E come farà anche Francesca E subito dopo Quando vi arriverà Dovete indossarla All'11 dicembre dovete pubblicare Una foto sulle storie Sui post dove volete Meglio sui post Forse i post li vedo più facilmente Delle storie Quindi pubblicate un post Una storia Tutto in cui taggate Sia me Che What a Secret E io ricondividerò Tutti 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 i vostri post Tutti Personaggi va bene Potete prenderle una Potete prenderne tre Ovviamente Se mettete tre foto diverse Pubblico tutte e tre Cioè se prendete tutte e tre le maglie Vi metto tutte e tre le foto Sul mio profilo Questo è scontato Quindi ragazzi Mi raccomando La campagna dura Soltanto altri tre giorni Tre quattro giorni Quindi avete davvero Pochissimo tempo E anche Volevo dirvi un'altra cosa Ovvero che Chi vuole venirci a trovare Sul set È ancora possibile per poco Perché appunto Abbiamo iniziato le riprese Che dureranno un altro paio Di settimane E poi smonteremo il set Quindi avete un altro paio di settimane O anche meno Per partecipare appunto Alle gite Che stiamo organizzando Per chi ha donato 100 euro Al nostro crowdfunding E avrete anche Un piccolo regalino in più Chi verrà sul set Avrà un piccolo regalino in più Che poi vedrete Quindi mi raccomando Se volete venire a vedere il set Prima che venga smontato Andate in descrizione Trovate il link Al nostro crowdfunding Donate E grazie Grazie Cioè Veramente Questo video Non me lo vuoi far fare È il tossico Ma scusa Non te ne ho accorta No, sai Io ho lato il set Quindi se volete Venire a vedere il set Costruito dalla scenografa Che tossisce le mie video Donate E organizzeremo Vi invieremo una mail E organizzeremo le gite Quindi mi raccomando È importante E niente Vi ho detto tutto Adesso vado Perché ho un sacco di cose da fare Stasera si gira Mi sono svegliata tardi E devo fare un botto di robe Ciao 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 Ciao